E comunque prima di tutto vorrei ringraziare la squadra per avermi aiutato a fare il mio primo gol qua a Teramo. Comunque sì, abbiamo fatto un primo tempo non a nostri livelli, però comunque meno male che siamo riusciti a pareggiarla e alla fine abbiamo cercato con delle occasioni di portarla a casa. Siete Cristian, io invece volevo chiederti se molto più prosegiamente hai ringraziato Bernardotto perché abbiamo detto guardando la partita, spesso l'attaccante non segna e in quell'occasione può incaponirsi ad andare alla conclusione personale, invece vedi a Ziosmanovic e gli dà praticamente il pallone del suo primo gol lasciando se stesso a zero. Sì, ma comunque ringraziare subito Bernardotto, comunque pure a lui ma anche il gol, comunque gli stiamo tutti vicino comunque tutta la squadra, speriamo che si sblocca pure lui il prima possibile, lo aiuteremo in tutti i modi per sbloccarsi così che puoi continuare a fare gol. Comunque abbiamo incontrato pure una squadra che non merita quella classifica, una squadra che gioca a calcio è una delle squadre migliori secondo me che abbiamo affrontato fino adesso è una squadra che sa giocare bene a calcio e sapevano uscire comunque noi abbiamo speso pure tanto nella partita contro il Gubbio e abbiamo causato queste cose qua comunque era una squadra che in grosso è una bella squadra secondo me grazie a tutti Grazie.